Sono Lorenzo Carlo Alvise, frequento l'istituto alberghiero Massimo Alberini di Treviso. Il cocktail Long Island ICT che andrò a presentarvi rientra nel progetto FSE del 2011 della Regione Veneto intitolato Tecnico di Servizi del Banketing. Long Island ICT Cocktail Ingredienti per un drink 1,5 cl di vodka 1,5 cl di cointreau 1,5 cl di runchiaro 1,5 cl di gin 2 cl di sciroppo di zucchero 3 cl di succo di limone A completare con della coca cola Mettiamo il ghiaccio nello shaker per raffreddarlo Mettiamone anche in un tambren alto e lasciamolo raffreddare Versiamo nella parte di vetro dello shaker Gli gin, il rum, la vodka, il quantro, lo sciroppo di zucchero ed il succo di lime Chiudiamo lo shaker e shakeriamo energicamente il tutto Apriamolo e cambiamo il ghiaccio del bicchiere precedentemente raffreddato e versiamo il tutto dentro il tumbler Tagliamo i quartini online e poniamoli all'interno del bicchiere Grazie a tutti Aggiungiamo la coca cola Misceliamo per l'ultima volta il tutto con uno stirrer Infine serviamo con due cannucce nere da cocktail Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti